Consulenza psicologica online I cancelling sono Emma Buongiorno, ti ascolto Come posso aiutarti? Sei la nostra cancelling migliore, quella con il punteggio più alto Però... Si chiamano sedute, Emma Non è che potresti correre al di fuori del turno? Per me non esiste al di fuori del turno Sono Emma, come posso aiutarti? Ho avuto dei problemi di droga, ok? Ho fatto terapia per anni, non è semplice Rispondo 24 su 24, 7 giorni su 7 Basta, non ti voglio dire un cazzo! A me correre aiuta Mi aiuta a pensare, ad ascoltare Io rendo meglio quando corro Voglio sapere qual è il modo più veloce per ammazzarmi Emma, non sei più lucida come un tempo Siamo la polizia No Apre questa cazzo di bocca Apre questa cazzo di bocca Stai empatizzando troppo Ci ho messo un po' a trovare il coraggio di chiamarti Meglio rivederti Papà è un fin di vita Non mi interessa questo Ma come non ti riguarda? È anche tuo padre, cazzo! Se glielo dico, gli distruggo la vita Se invece non glielo dico, non capirà mai perché me ne sono andata E' difficile Sorpresa! Abbiamo tante cose da raccontarci Non so nemmeno da dove cominciare Dall'inizio Dall'inizio No 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 Grazie a tutti.